Appello della Croce Rossa di Pizzighettone nel Cremonese perché servono nuovi volontari al fine di garantire il servizio di soccorso pubblico alla cittadinanza. Tra breve avranno inizio i corsi di addestramento, ma occorre che nuove leve si facciano avanti per il bene del proprio territorio e della propria gente. E ne parliamo in studio, la ringraziamo con la Presidente del Comitato Croce Rossa di Pizzighettone, Sara Losi. Presidente, buonasera. Buonasera, innanzitutto mi permette di ringraziare l'emittente di Telecolor per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nei confronti del Comitato Locale della Croce Rossa di Pizzighettone. Grazie mille anche in nome della redazione. Entriamo dunque nel vivo di questo appello. Innanzitutto i volontari della Croce Rossa cosa fanno? Noi come Comitato Locale di Pizzighettone ci occupiamo di servizi di carattere sanitario. Attualmente riusciamo a garantire il servizio di alisi a quattro persone residenti a Pizzighettone e purtroppo a causa dello scarso ricambio generazionale ecco adesso ci troviamo ad affrontare una situazione piuttosto grave poiché non riusciamo sempre a garantire le numerose richieste di trasporti, causa visite, dimissioni ospedaliere provenienti dalla popolazione locale. Quindi stasera rivolgo un appello alle persone che possano dedicare parte del loro tempo soprattutto nelle ore diurne, quindi penso ai disoccupati, ai giovani pensionati, alle casalingue e anche solo agli studenti universitari per appunto prestare qualche ora del proprio tempo a favore di chi ha bisogno e di chi senza queste prestazioni veramente non può stare. Quali sono le attitudini di queste persone? Cosa bisogna saper fare? Allora da noi il 23 di maggio partirà un corso di reclutamento per nuovi soci. è aperto a partire dai 14 anni, anche perché oltre ai servizi sanitari garantiamo anche servizi di carattere socioassistenziale a favore delle fasce più vulnerabili. Prestiamo servizio con i bambini, talvolta anche con i disabili o gli anziani, quindi non è necessario avere particolari attitudini diciamo all'atto pratico ma che poi si acquisiranno ovviamente con i vari step nel corso dei mesi ma soprattutto attitudini di carattere umano, di volersi prestare a favore di chi ha bisogno. Tutti coloro e sono convinto dopo questo appello saranno in tanti che vogliono mettersi a disposizione della Croce Rossa di Pizzighettoni, in più in generale della Croce Rossa Cremonese, cosa devono fare? È necessario iscriversi ma anche la sera stessa del 23 di maggio quando da noi partirà il corso come ho detto di reclutamento e poi appunto seguire le lezioni che dureranno circa un mese distribuite su due serate settimanali, dalle 20.30 alle 22.30. Allora ricordiamoci amiche e amici, quando qualcuno nella nostra famiglia o i nostri amici qualcuno si sente male è facile, comodo alzare il telefono, tanto sappiamo che c'è sempre qualcuno in Croce Rossa che ci dà una mano. Beh, adesso è il momento di mettere da parte la pigrizia e di darsi da fare ognuno come può raccogliendo appunto l'appello della Presidente del Comitato Croce Rossa di Pizzighettoni di Cremona, Sara Losi. Presidente, buon lavoro e in questo caso me lo lasci dire per il lavoro che svolgete proprio che Dio vi benedica. Grazie mille.